Nuovo Sky Cinema presenta Signore e signori, è la prima volta nella storia per salire sul ring del grande cinema Il peso massimo di Filadelfia, il più volte campione del mondo, lo stallone italiano Rocky Balboa Tutti gli incontri Tutti gli sfidanti Tutti i film Tutta la saga in un unico spettacolare canale Da venerdì 11 al lunedì 21, Sky Cinema Rocky La prima delle grandi saghe Nuovo Sky Cinema